Qigong vuol dire ginnastiche energetiche quindi in generale un termine che non significa nulla di specifico ed è un termine che anche se è ricco di accenti esoterici è estremamente moderno è stato Mao che per cercare di organizzare tutte quelle forme strane di ginnastiche che erano presenti durante la rivoluzione culturale ha creato questo termine qigong letteralmente lavoro gong come quello che viene fatto in fabbrica e qi come il qi quello che sta nell'organismo qigong significa qualche cosa che viene fatta col qi e quindi per qigong intendiamo qualsiasi tipo di ginnastica energetica